che succede tra tutte queste miei incredibili cose ce la stiamo facendo sì ma ahimè non mi avevo sbagliato di nuovo maledetto rai ma anche non funziona cos'è sta roba e rimandiamolo perfetto ora ce la dovremmo forse forse fare molto forse ah che seccatura però e poi quando torno su questo si stifia non lo capisco perché che problemi hai ci riproviamo no di nuovo no perché mi domando io perché perché devi fare tutto questo senza il minimo motivo perché c'è bisogno facciamo così partirà bene questa volta e chi lo sa ci siamo quasi facciamo così facciamo così pieno non sopporto più questo non sopporto più Sì, sì, sì. Oggi c'è qualcuno che mi odia, io lo so, lo so, che c'è qualcuno che non mi vuole bene, ma non mi interessa, stavolta ce la facciamo in qualche modo. Allora, uno, due. Ho sbagliato. Vabbè, sarà un incredibile fa come partita. Allora, qui, c'è così. Ok, meglio. Allora, vediamo se devo odiare qualcos'altro, a parte il gioco. Ah, mannaggia. Allora, vediamo se. Ah. Che succede se io faccio un vero? C'è così. Ah. Più comodo. Allora, un poca nera, una ragione pirettica, un acne e un raso aperto. Questo gioco i versi sono qualcosa di favoloso. Tutti che piagnucolano, ovviamente. Forse una cosa, ma la vedete velo dopo. Va che comunque qua parlano in simlish praticamente. Che faccia triste. Sostanzialmente sei un infiltrato che ha portato dentro la troca. Dai che devo diventare pazza con i comandi. Allora. Ok, allora, se ci si muove easy peasy, più o meno easy peasy, la telecamera è qualcosa di ingestibile, ma questo è un problema, ok, comunque si salta, i tasti peggiori del mondo, avanti che ci abbiamo bisogno di un po' di vita, perfetto, non rallentare, vai 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 vai, ti preoccupare, succede niente, appunto. E' caduto. Ah, spero che l'audio adesso funzioni meglio. Ok. Ok. E che palle, iniziamo, che c'è? Eh, sei fuggito, sì, sono Murphy, sono qui, Murphy è scritto Murphy, e sono qui per guidarti, sì, mi guardate la vita, è troppo pesante. Neggi i pensieri, uuuuh. S1, ok, nel caso mi servisse, so cosa cliccare. Ah, lì ora. Io che sono una cica mala, so già che qui non ce la fa, ma devo andare di qua. Allora, mi fortuna all'autosparo, perché se no mi ammazzavo. Sì, la gamba è pirata, vieni via, quelle sono i boom, sì, 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 lo so, so cosa sono i boom. Figlia sto qua, so caduto su, madonna la telecamera, ok. No. Io sono cambierità. I tasti, sali qui, sali mio Dio. Ok. Figlia qua, sì, non mi interessa, figlia. Perché? Vabbè. Ok, sì, sì, io so. Sì, sì, devo andare di più. Se questo era qualcosa, sto specializzando, un zanzaro è strano, io non capisco. Chi è? Chi c'è? Ok, fino a qui, tutto a posto. Ok. Sti lomani vergognosi, ok, papà, se lo torano, ci fanno da papà? No. Sì, sì, mi affidabili, però non... Per esempio, un po' di qualità di tanto in tanto mi rendo conosco. Perché? Perché sono io che sto guardando la cosa, con una qualità intima potenzialmente. Giusto? E' il fatti. Fatti quello buono. Perfetto, meglio. Sì, devi ripararlo. Allora. Andiamo. Una pietra di piangere, bellissima cosa. Tala, 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 tala. Ah, piccia, perché? Perché non ti attacchi? Ok. Vai, 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 e dai. Trent'anni per saltare su una... Allora. Eh, tiz. Tui, tui misti. No, tiz, giusto. Sono molto simpatici sti rovi. Sì, sono io, vedete, se no, sono io, non sono io. L'unica parola è un lingo conosciuto. Sì, sono io, non sono io, non sono io. 5 room per passare, ma li abbiamo, perfetto. Sennò mi rimangono in trattacce, lo vedo io. Per partire un grande viaggio. Ma qual è la bocca? Quindi il resto è il naso? Cerciando la bocca sotto il mento. Ma come funziona questa cosa? Ah, santo cielo. Sì, certo che salvo la partita. Che domande sono? Ok. Andiamo a dire... Non si può andare diretto perché mi devi parlare? Ma non mi interessa, ma stai zinitro. Ok. Perfetto. La conoscide? No. Mi è servito andare in acqua? Sì, c'è qua. Com'è? Con Z vado giù. Con Z vado giù, ma che vuol dire? Nuota, Rai, ma nuota. Il livello sott'acqua, neanche il tempo di iniziarlo? Possibile mai? Devi sapere chi è l'infame che ha creato proprio questa cosa. I livelli sott'acqua perché non c'è, non c'è motivo, non c'è. Piglialo, piglialo, piglialo. Con l'asio per la sua foca. Dove è? La telecamera, non funziona niente. Ok. Ah, ok. Qua si immagina che sì. Sì, si saltava. Ok. Che versi ogni volta. Ci siamo? Anderò avanti. Qua si salva. Cucù. 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 Ok. Ok. Ma no, ma no, dai, che sfiga. Che sfiga. Ma buon salve. Ci giocavo anche tu? Allora. E di te se al secondo livello già devo morire con una strada. Allora. Ok. Non ridi. Cioè, volevo dirti di non ridere, ma se non ridi che sto giocando a fare. Ma che rimbalzo incredibile per riuscire ad aprire la porta. Cioè, ho aperto la porta con rimbalzo, incredibile ragazzi. Assurdo. Ok. Allora. Piano. Che qua si cade. Allora. Ma lì c'è un coso che mi cura. Ma me non è... Eh, per attenzione che questi scivolano lo sapevo. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Eh, che ce la fai? Piano, 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 piano. C'è su, bambino, ma quanto è sensibile. Eh, ma che... Io l'adoravo questo gioco da bambina, però che palle comandi oggi. Andiamo via. Che se si blocca sulle pietre fermi. Io girattolo tutto e non ho capito più niente. Che giramento di occhi. A di ora. Vediamo un po'. La schifezza. Quanto lo odiavo sta roba qui, me lo ricordavo che c'è la cosa. Andare qui. Ok. Cerchiamo di non fare la figura degli stronzi, per favore. La telecamera. Ok. Allora. La tecnica è stare fai per me nel posto giusto, però. Ok. Ma che schifo di rumori qui. Ma in tutto questo l'audio... Ma io ho sbagliato. Eh, aspetta, eh. Mi ricordo com'è che si sa. Ok. Ehm. In tutto questo l'audio mio va bene rispetto all'audio del gioco. Devo abbassare ancora, perché se devo abbassare ancora mi sparo. Sei giorni per riusci... No, no. Ma dai! Mi sento stupida con questo gioco. Ed è una vaccata di gioco. Mannaggia. Ok. Quindi. Qui c'è lui. Mi passava sempre santo a ucciderlo tempo fa. Ma sai che in realtà c'è della gente che non ci ha giocato? Ora, io personalmente non ti saprei dire che... Ah, va, Crash, Crash. Però. Vedi, già Crash è più... Ma tua mamma quella lurida. Crash è già più situazionale. Perché la gente spesso lo paragonava a Mario. E quindi non ci giocava. E quindi di qua. E quindi... Allora, me ne ha fregato niente. Mario non ci ha mai potuto giocare e giocavo a Crash, ok? Allora. Eh sì, però... Eh vabbè, inoltre non mi servivano. Allora. E tu? Ah, no, aspetta, non lo ricordo questo. Non lo posso prendere adesso quella là. Sì, ma Super Mario è bello, eh. Però... Io non ci ho mai potuto giocare perché non avevo mai nessun gioco di Super Mario. Guardavo mio fratello giocare a Luigi's Mansion e Paper Mario sulla console prestata da un amico. Quindi... A parte quello non ho mai avuto esperienze di Mario. Io lo so che lì non ci posso arrivare. Quindi perché ci dovrei andare? Io andavo. Sto gioco infamissimo comunque, Raiman. Perché... Ci ho giocato un milione di volte. E sono arrivata alla fine un milione di volte. Non l'ho mai completato. All'ultimo livello infame... Non ce la fai perché è difficilissimo. Sparami qua, grazie. Ciao. Però è molto triste che non abbia mai finito. Ma perché l'ultimo livello è impossibile. Non so se forse è fatto apposta. Avesse fatto con i miracoli e con i santi che ti vengono in soccor- Ma tua mamma quella beata! Allora. Help, niente. Aiutami tu. Ma che fa tua madre quella? Spiega me l'ha fatto fare esattamente di riprendere Raiman. Che io già mi sono rotta le scatole di livello 2. Santo celissimo. Allora. Brutto, mi fa me schifoso. L'assa me perde. Ok. No! Aspetta, mamma. Ma io ti odio. Allora. Voglio finire questo livello. Certo, ci vuole ancora un po', ma lo finirò a questo livello prima di... Non lo so, perché come lo sto dicendo sembrava prima di morire. Allora. Attaccati qua ed attaccati lato, ho detto. Ok, ok. Perché fretta? Perché la fretta? Ok, se non le prendevo che succedeva? Allora. Ok, qui. Vabbè, short cut. Ciao, infame. Ok. No! Io ti odio, Raiman. Ti voglio bene, però ti odio. Salta buono, per favore. Salta buono. Appena cadi, mi muovo, Raiman. E no. Ma poi che razza di scarica è questa, esattamente? Cioè, chi è quello che ha pensato sì? È una buona idea far cadere lì dei barili pieni di explosivo. Chi è che l'ha pensato? Voglio il nome. Vorrei veramente il nome. Allora. Che succe? Che vuoi? Sì, comunque i tasti, mio Dio, eh. Mio Dio. Ah, che sbadiglio. Che sbadiglio, che sonno. Oh, pupù. Salve. Che sai, perché sbaglio i tasti? Sparagli. Eh, che preview. Vabbè. Vieni qua. Ma che immortale. Non so se l'ho già detto che odio i tasti. Forse sì. Allora. Dov'è qua? E ora facciamo anche l'infamata. Prima facciamo questo, infamata. Sbattiglio. 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 Ah. Sbattiglio. Ce n'è un altro. Eh no. Tua mamma. Ma che sciocca incredibile. A saperlo prima. Allora. Qua com'è la situazione? Ce n'è un altro. Sento che si realmente ha un sacco, sto tizio. Dall'altra parte, per te le calmo. Tutto a po'. Sì. Ok. Scendi da qui. Oh, beato il Carmine. Oddio. Figlialo. Cielo. Ok. Vai via. Perfetto. Ce l'ho. Allora. No, non si poteva caricare. Non si poteva caricare. Vai. Lo sparo. Mi ripetavo di sì. Vabbè, lui è morto. Io non so mirare per il tasto. Non mi dimentico pure come si salta. Continuo a cliccare spazio. Quando spazio serve per picchiare. Santo gelo. Ok. Eh sì. Che cosa è diventato Tomb Raider? Ok. Allora. Eh. Ma dovevo cliccare l'out. Cliccato il W. Dove so? Chi che mi sta parlando? Non solo il lì mi ha pure fatto danno. Infami. Allora. Oh no, me lo ricordo questo. Figlia sta cosa. Ok. Lancia lì. Perfetto. Stava cadendo di brutto. Che scivoloni. Che scivolò. Te lo volevo prendere un cuncoso. Però mio Dio. Eh, Rai. Lancia qui. E sparare lì. Perfetto. Veloce. Che poi non so mirare adesso a quell'altro. Vai. Atta, atta. Ok. Ok. Ah, me li ha contati. Perfetto. Dove? Non andava la chat? E che è successo? Ah, me l'ho distratta. No, perché di quella vacca? Ma non andava la chat? Che è successo? Allora. Sparagli. Perfetto. Ansel. Vabbè, l'importante è che adesso funziona. Perché non mi posso muovere? Ah, ce l'ho lasciata questa. Quindi hai sentito tutti i miei deliri? Che faccia poligonale. Che poligoni, ragazzi. Che poligoni. Cos'era sto Cernia? Sì, tutto ok. La carne mi ha andato da quello che non ce la facessi invece, sì. Tadadadà, ci siamo separati. Devo trovare lo sconfiggio dei pirati e il farlo da vicino a tutti i miei poteri. Non ti do una fava. Devi raccogliere i mille rum. No, ti ricattaro l'epoca qui sotto. I pirati capitanati dal magico Razorbird. Spirito del mondo e potere immensi. Deve aiutare a sconfiggere i pirati. Sfortunatamente si è isolato. Aspetta, un po' lo pus. Era quello brutto con le braccia lunghe e la faccia strana. Ok, secondo la leggenda potremmo farlo tornare. Se finiscono le quattro ma... Sì. Ora, lo scosti luci segreti e il mister reossi. Trovo la nostra unica speranza e ti aiuterò a dare tutta l'energia che ti ho raccolto. Va bene. Dammi l'energiaia. Dimmi. Dammi power up che già livello 2 e già mi fanno male le mani perché sono seccata. E' stata tutta la connessione, tutta a posto, sì? No, tutta a posto. Ok. Buona sapersi, signora, la ringrazio. Faccia sempre molto persuasa tu comunque. Allora, se qua si può salire, giusto? Com'è che si salta? Ah, che sbagli, incredibili. Ah, che succede? Che succede? Andare di qua? No, di qua io arrivo. Così? Sì. Ah, sì! Ok. E' stato bello, è stato divertente. E' stato important... Ok. Allora. Ma che schifo, il rumore di schifo è incredibile. Allora, via qua, via, 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 ok. Via qua e via pure qua. Lasciati cadere. E no, e no, no, no. Questa visuale, ma che perché? Beh, non posso manco cambiare la telecamera. Tua madre quella simpatica! Allora... Allora... C'è qua su? Cosa è di un tizio che piegno colava sopra? Ah, eccolo. Allora, liberiamo quelli e picchiamo quest'altro. Ti è infame? Aia! Ti è infame? Dove? Com'è qua? Aio! Mi picchia? Ok. Le mie uscite quali uscite? Ne ho di cose. Sì, però sta schifo. E' tua madre quella simpatica! Ok. Tutte? Come tutte? Tutte cosa? Quante? Tipo la mamma simpatica. Che vuoi? Stifo della vita! Sì, le vedo le correnti. Perché sto... Perché la telecamera è dentro il pacco di Ray? Sono il pacco di Rayman! Ok. Quindi l'elicottero non lo faccio con i capelli o con le orecchie. Lo faccio col cane. Ok. Ah, che cosa simpatica. Allora... No, devi scendere. E niente. Vola, amico, vola. Che? Che succede là fuori? Sai che ci sono i cani che stanno facendo follia. Quindi se riuscite a sentire rumori strani. Tipo questo. Probabilmente è il cane che... O i cani che fanno robe. Allora. Vai giù, piano, però vai giù. Ah, stai dentro sto arnese per il piacere santissimo. Allora, lì. Sento un cicolare simpatico. Vai giù. Ezz, perfetto. Lì. Ok, scusate un secondo perché c'è il cane che sta facendo qualcosa che non deve. E non va bene. Quindi torno fra due secondi e controllo. Arrivo. Ok. Grazie. Sono qui. Un secondo. Secondo, eh. Scusate i rumori. Ok. Ci mancava sotto un po' dovevo litigare con il microfono. Rivettiamoci qua. Ok. Perfetto. Stavamo dicendo. Stavo volando. Perfetto. Allora. Giriamo piano. Giriamo piano per non far rumore. Ciao, Bugo. No, devi scendere. Scendere e tornare su. Bugo, ciao. In caso qualcuno se lo stesse chiedendo, sì ho una casa piena di animali. Ci sono gli ums. Pigalo, pigalo. Ok. Torniamo là. Ti sei guardato? Bravo, Pugo. Mica. Buonasera anche a lei, signorina. Niente. Mica. Mica non si vuole fare vedere. Allora. Ma, perdonami un attimo. 48 su 5. Quanta? mi mancano due rumi e una cassa, e due cassa, ma che canta rubrico? grazie grazie si signor team venga venga mi ricordo cosa dobbiamo fare la scenetta scuola, scrausissima te la facciamo? dov'è? c'è mezz'ora che aspetta lui e lui non arriva avanti voglio fare il livello d'ups ok fermi tutti subito un momentino che mi è arrivato il messaggio santo di che bella notizia mi sta dando la mia mamma secondo eh? si lui balla tantissimo e allora perfetto allora se abbiamo un poco poco di fortuna riesco a fare un altro livello prima che debba staccare proprio potenzialmente cos'è? hanno preso in giro quella scusami? guarda che la mia mamma mi ha scritto per un motivo validissimo mi ha chiesto cosa voglio uscire, mi ha chiesto di scegliere la cena quindi perdonami per me è una notizia bellissima allora dovrei riuscire a fare un altro livello e poi eventualmente gli altri li faccio dopo Geena allora questo è un altro livello se non ti ricordo male che non posso finire perché c'è un sacco di backtracking backtracing vabbè insomma sta tornando dietro tua madre la simpatica donna dicevo è uno di quei livelli che si finisce dopo perché devo... eh che palle ma l'hitbox che palle dai allora allora perché servono la live di oggi è dedicata sia a quella simpaticissima ma di che c'è? che vuole? oddio aspetta fermi tutti sì? dimmi no scusa la volta scorsa l'ho preso c'era dentro il pollo il pomodoro la salsa c'era un sacco di roba ma era un panino tipo con la cotoretta di pollo vabbè prendimi nugget di pollo e patatine non ci pensiamo più chicken burger sì quello era certo perché chicken non vuol dire pollo la mia mamma sì certo te l'ho detto cara te l'avevo pure scritto va bene mamma quello comunque vabbè quello mamma grazie ciao mamma ciao ok dopo l'imbarazzamento è chiamata durante la live della mia mamma non ho potuto neanche fermare il microfono perché purtroppo se tocco streamlab mi parte subito il videogioco non torna più allora ce l'abbiamo fatta dove è qua no ma è di lì dovevo andare là là allora 3, 2, 1 perché? non ce la posso fare dai caspita devi solo saltare su una schifo di radice non devi fare i miracoli vai lì oh allora adesso piano piano che vuole questo coso? che cosa brutta che cosa tristissima ma è crudere da morire allora piano se mi fate cadere un'altra volta giuro sui cieli e da terra che io mi lancio non lo so lancio tutto sì dopo dopo vedo allora caspita ce l'abbiamo fatta siamo arrivati da qualche parte allora che schifo è ma che schifo ma è una vecchia scheletrica fantasma sì allora però vabbè che schifo ok io me lo ricordo è la caverna dei sogni qualcosa cioè tu mi stai dicendo che io ho fatto tutto sto sbatti per finire fino a qua e tu mi hai appena mandato via no vabbè ma non è possibile ma cos'è ma dove è schifo di nuovo dai dai però non è giusto non è giusto io ho fatto tanta fatica per arrivare fino a qua e tu mi prendi giro gioco della favola e poi se muoio un altro para di volte io finisco le leaves le leaves le vites però lì è un bait io lo so che non è un bait ok 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 allora deve andare lì però ok anche quest'acqua qui che in realtà è palesemente fin in effetto spunta una roba sì le leaves hai qualche problema con il mio ingrish allora picchia su cosa che lo giga oh no oh no oh no oh no mi sono ricordata che ho fatto casino da merire non importa allora ma che vuoi che ne sappia lui delle maschere di polocus di colopus di polo colopulus di papadopulus c'ho il maschera ho fatto mi sono schiccata tutte cose allora questo livello io l'ho odiato ma l'ho odiato io questo coso che vedete qua questa specie di brutto serpente dell'inferno mi deve trascinare in giro a fare cose orribili sì voglio andare sull'altra sponda posso parlare in italiano sull'altra sponda ma è terribile è terribile è tutto terribile allora ma quello è un ghigno bruttissimo allora aspetta che qua c'è la vita è la vita eh vabbè eh no stiamo partendo venis ma vuoi adottare cosa ma vuoi adottare cosa il figlio dell'inferno vuoi adottare allora allora via eh no ok e te ok almeno è l'um almeno è l'um tua madre simpatica dopo vent'anni non sarò probabilmente ancora qui allora vorrei te grande almeno mi rifaccio un po' di vita ogni tanto qua ce n'era pure giusto se uffa ok quello ho già cliccato mi toccate schifi della terra ok via grande ma quante ce ne sono le ho manca uccidetemi uccidetemi ok le ho mancate tutte cioè non ne ho presa una non ne ho presa mannaggia santissima stifo della terra ma non sto perdendo vita oh sì non capisco vabbè ah sì la sto perdendo la vita voglio cambiare gioco no livello gioco respiriamo santamente allora lasciami in pazze perfetto no 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 signora la santa pazienza ci vuole con questo livello benedetto la santa pazienza poi mi devo spostare la volta prossima il counter degli iscritti perché effettivamente è sopra dove spuntano un po' le vite beh ok allora signore mi scusereste ma dai ma in piena faccia dai che succe allora voglio solo arrivare dall'altra parte se non faccio al 100% questo livello giuro che mi va bene ok posso saltarle posso saltar no no non posso saltarle sono una chiavica in questo livello che c'è il bugo allora vabbè però dai livello 3 è impossibile no è impossibile no ma papà e questo è il primo tolto dalle balle Ugo che c'è lo so lo so faccio troppo casino per te ma dai ma io l'avevo schivato se la Xbox fa caccare non vale dai allora piano ok oh Gesù cioè senza io mi sono distratta non pensavo che niente per vedere che funzionava questo pio ma come ma scusa cioè cosa devo fare per forza 30 volte io per riuscire a pio le cose dentro ah ma c'era il barbatrucchios via stucosus via che questo grande bus e me lo puoi fare un'altra volta sì grazie assa bello prima ok e no ne ho persa una però ma io non avevo capito e vabbè quella però adesso se ne va al diavolo dovrò tornarci in un altro momento cos'è che salti di stile sì vabbè questo vabbè suicidanti mi sembra mi sembra l'ideale mi sembra allora qui non ci bisogna di fare tutti i salti perché l'abbiamo già fatti lo posso andare di qui del dietro e te e no l'ho saltato vede la donna che ma che cacata allora e no questo li voglio vabbè vabbè ma 28 di 50 le mie palle dai su e no ho spaiato tantissimo destra e sinistra non so quali sono sto pure finendo la vita che bella notizia perché sto giocando a questo gioco della tavola potevo scegliere non lo so qualunque tra cosa allora concentrazione un attimo che voglio finire sotto il livello della tavola scivola via di qui perfetto allora ti pre eh no eh no allora qua devo andare tantissimo ok l'ho preso ah ah stavolta era mio eh dai eh no eh no eh no eh dai eh che palle questo sì ok ma cosa ma dove ma dove era la cassa ma che cosa dici ma non è vero è una bugia io sono senza vita fra poco però non potrei più giocare che poi devo rifare il livello ma che palle no 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 non c'è un esci dal livello no c'è lascia il gioco ok quindi questo è l'ultimo tentativo prima di doverlo rifare tutto da capo voglio morire allora vai vai di là e restaci e dai pam 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 papà papà oh da qui oh ma allora il mondo mi vuole bene che succede perché è così lontana la telecamera ok mio dio si è velocizzato tutto all'improvviso che succede va bene ok perché è da così lontano vai vicino allora piano ok le cose con ordine ma dai va cos'è ma che impossibile ho capito ma io sono lontana non capisco se c'è della telecamera allora da qua mi sto arrabbiando sto cercando di mantenere la calma ma io mi sto arrabbiando tua mamma quella simpatica ripiglialo ok vai di qua cosa triste è che avrei potuto prendere tutto ma invece no perché ho perso il lume prima perché qui mi voglio ammazzare allora qua visto che sto stronzo spunta qui io salto ma come ma perché ma perché me l'hai fatto fino ad ora adesso non lo fai più ma porca di quella vacca dai gioco dello sbaglione allora ok 37 salti dopo l'abbiamo e beh madonna mia via via questi questi pigliali oh tutti e due fatti sì eh no 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 ma come la situazione sta per diventare nevrotica nervosica incredibilmente incalzosica sì sbatti le corna dove ti pare maledetto schifoso che non si capisce se i capelli o se sono orecchie che rimbalzi allora e qua è così tu non mi rompi perché devo eh che sbatta no ma io l'odio questo livello ma lo dovrò anche rifare pensa ci sono le zanzare in casa ci sono come se non bastasse oltre il danno del livello pure vabbè fate buoni eh vabbè ma try again cosa try again santissimo il cielo incredibile allora non è che io ho tutta la sera in questo momento poi avrò tutta la tua madre ops vabbè è successo l'ho detto l'ho detto vai su eh che sbatta ma dai è tutto rotto questo gioco allora salta qui eh ma dai ma non ti posso più fammi finire sto livello dai caspita allora io ho fiducia nelle mie capacità cioè no però sì ok il balzello fatto via lontano da sto schifo per favore ora vorrei riuscire a prendere il lumen il lume e là grande peccato che i 5 lume che mi manchino siano dove non li posso prendere ok l'ho fatto l'ho fatto sì sì l'abbiamo fatto sì torna a trovarmi se potremmo fare il tristissimo mio dio tornerò promesso sò non torneremo mai più non è vero devo tornare per forza sennò quei 5 lume nella zona di prima che mannaggia me mannaggia ah rompi sta cazzata tan 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 io cretina che fico a convinta che vado avanti e invece no ragazzi ragazzi sì lo so che mi mancano 5 maledetissimi lumen lo so e dirò di più salvo la partita perché mio dio ma lo devo anche rifare sotto livello della favola così non lo rifaccio più vai di là buttati mi sento male solo al pensiero di doverlo rifare però dovendolo fare con meno problemi con meno cose da prendere mi sento a pigliare solo una magari mi spacco meno le balle poi per fortuna è un gioco senza vite se no ora finita già ok come non detto in realtà devo staccare quindi facciamo che riprendo magari più tardi o magari un altro giorno o magari mai magari mai va bene per adesso è andata sì voglio uscire quindi ci vediamo più tardi o domani o un altro giorno no Grazie a tutti.